Buonasera, cominciamo. In piedi. Ti preghiamo, vieni Santo Spirito, illumini i nostri cuori. Noi tutti abbiamo bisogno di diventare credenti, di entrare in una dimensione di fede spirituale per la quale non cediamo più, non crolliamo più di fronte alle prove della vita e sotto il peso del male. Una fede ferrea. Ti preghiamo, Dio Onipotente, attraverso la scuola della Tua Parola e l'esempio dei nostri predilessori della fede facci diventare rocce spirituali. Per Cristo, nostro Signore. Bene, altra volta scorsa abbiamo visto la chiamata di Mosè, le sue dimensioni, il figlio, la terra. Abbiamo visto che Mosè era un politeista e noi abbiamo visto non tanto il cammino materiale, quello materiale parte da Ur dei Caldei in mezzo ai fiumi Tigri e Dofrate fino ad arrivare alla Palestina. Il cammino spirituale invece parte dal politeismo. Abramo era un uomo credente in Dio ma non conosceva il vero Dio, era politeista, credeva in più dei. E da lì Dio, attraverso la sua parola, lo guida, lo porta ad una maturità di fede e gli dà i doni della terra e poi del figlio. Noi adesso vedremo il cammino di fede che ha fatto Abramo nelle sue età principali e vedremo di rapportarlo con il nostro cammino di fede. Nessuno di noi c'è adesso la fede che c'aveva dieci anni fa o vent'anni fa o da bambino. Siamo in una evoluzione, il rapporto con Dio è sempre più aperto, franco, chiaro, profondo. Stiamo scoprendo tante altre dimensioni della vita di fede che non possiamo solamente rimanerne indietro. allora dopo la chiamata di Abramo Abramo parte va in questa terra di Canaan e continua arriva in Egitto e in Egitto viene ricevuto per il faraone. Il problema di Abramo è che la sua moglie era molto bella Sara allora lui ha paura che il faraone lo uccidesse per prendersi la moglie per sé si diceva così a quei tempi invece di fare il divorzio si prendeva la moglie ammattando il marito e allora per salvare la pelle Abramo inventa di presentare Sara al faraone come sua sorella il faraone se la chiappa ci fa quello che vuole e poi che cosa succede? scopre che scopre che da quando si è unito a Sara avvengono un sacco di guai a lui a faraone poi scopre che Sara non è la sorella ma la moglie di Abramo e il faraone si arrabbia con Abramo dice ma come? mi hai nascosto che questa è la tua moglie nascondendomi questo tu mi hai fatto accendere l'ira di Dio contro di me e contro il mio regno ripendi tua moglie e partene via non ci venire più qua allora ecco come le soluzioni umane i trucchi umani non risolvono mai la storia la quale si complica quando cerchiamo soluzioni solo umane con le nostre furbizie poi c'è Lot e si dividono la terra poi capitolo 14 dove sta ci sono le guerre con i re quattro re poi capitolo 15 Dio rinnova l'alleanza e alcune cose non ripetitive quindi non le leggiamo leggiamo il capitolo 16 la storia di Abramo Sara ed Agar che era la schiava di Sara e ovviamente noi non vediamo questa cosa per fare una cultura biblica la vediamo sempre in riferimento alla nostra storia al nostro allo sviluppo della nostra fede leggiamo innanzitutto Sarai moglie di Abram non gli aveva dato figli avendo però una schiava egiziana chiamata Agar Sarai disse ad Abram ecco il Signore mi ha impedito di aver prole unisci della mia schiava forse da lei potrò avere figli Abramo ascoltò l'invito di Sarai così al termine dieci anni da quando Abramo abitava nella terra di Canaan Sarai moglie di Abram prese Agar l'egiziana la sua schiava e la diede in moglie ad Abram suo marito egli si unì ad Agar che restò incinta ma quando essa si accorse di essere incinta la sua padrona non contò più nulla per lei allora Sarai disse ad Abram l'offesa mi è fatta ricada su di te io ti ho messo in grembo la mia schiava ma da quando si è accorta di essere incinta io non conto più niente per lei il Signore sia giudice tra me e te Abram disse a Sarai ecco la tua schiava è in mano tua trattala come ti piace Sarai allora la maltrattò tanto che quella fuggì dalla sua presenza la trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto la sorgente sulla strada di Sur e le disse Agar schiava di Sarai da dove vieni e dove vai rispose fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai e disse l'angelo del Signore ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa e disse ancora l'angelo del Signore moltiplicerò la tua discendenza e non ti potrà contarla tanto sarà numerosa soggiunse poi l'angelo del Signore ecco sei incinta partorerai un figlio e lo chiamerai Ismaele perché il Signore ha udito il tuo lamento egli sarà come un asino selvatico la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli Agar al Signore che aveva parlato diede questo nome tu sei il Dio della visione perché diceva non ho forse visto qui colui che mi vede per questo il pozzo si chiamò Pozzo di La Cairo e appunto quello che si trova tra Cades e Bered Agar partorì ad Abramo un figlio e Abramo chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele vedete ma questa dice che cosa c'entra con noi adesso vediamo dobbiamo stare attenti all'età vi ricordate qualche cosa di cui abbiamo detto la volta a quanti anni Dio o meglio quanti anni aveva Abramo quando Dio gli parlò la prima volta chi si ricorda quanti anni aveva Abramo quando Dio gli parlò la prima volta abbiamo visto la volta scorsa nel capitolo 12 eh no nessuno si ricorda 75 qui quando succede il fatto di Agar e quando nasce questo bambino quanti anni aveva Abramo 85 rimane incinta Agar 86 anni nasce Ismaele ecco abbiamo in mente queste date perché sono le tappe dello sviluppo di questa storia allora a questo punto sono già dieci anni che sono in cammino non è che Agar era venuta a servizio di Sarai pochi mesi prima c'era di già da tempo però Sara solo dopo dieci anni gli viene in mente di proporre Agar al marito per avere un figlio nel senso che il figlio che veniva da Agar si prendeva lei questa era una consuetudine di quel tempo che se la moglie era sterile il padrone faceva il figlio con la schiava la moglie se lo prendeva lei la schiava non contava nulla e quel figlio lì era la discendenza del padrone era un consuetudine quindi lo poteva fare che cosa è successo però che se nasceva il figlio da Agar non si verificava la promessa di Dio che il figlio doveva nascere da Sarai perché Dio ha detto che avrebbe avuto un figlio dalla moglie non dalla schiava la schiava era fertile non c'era problema per avere figli era la moglie con la quale c'erano i problemi Dio ha promesso ad Abramo una cosa che era impossibile a realizzarsi e vi ricordo che Dio fa sempre questo ci fa muovere sempre in situazioni nelle quali per noi è impossibile risolverle con le forze umane da soli senza il suo intervento allora vedete Sarai dopo dieci anni di cammino che cosa aveva imparato di Fede si era stufata questo figlio non viene fuori mio marito avrà avuto avrà avuto un po' di aterosclerosi avrà capito cavoli per fischi e fischi per carri il figlio ce lo facciamo da soli sfruttando la schiava queste sono le soluzioni nostre diciamo in calcio d'angolo per salvarci da un apparente fallimento in campo di fede quando per noi continuare a credere diventa difficile allora troviamo qualche escamotage per risolvere la situazione alla meno peggio come diciamo noi vi ricordate Giuseppe cosa aveva pensato quando ha visto la fidanzata incinta e per la legge di allora lui avrebbe dovuto denunciarla per farla uccidere a sassate nella piazza del paese così che moriva lei col bambino quale fu l'escamotage di Giuseppe no senza di lei pensò di entrarsene via senza dire a nessuno che quello non era il suo figlio cioè facendo credere alla gente che quello era il suo figlio e che lui l'aveva abbandonato quindi si addossava lui la colpa ma non faceva morire Maria e il bambino a sassate non gli faceva lepidare e nel suo escamotage per risolvere una situazione che è umanamente impossibile da risolvere e che a lui lo mandava fuori di testa perché proprio per lui era impossibile che una ragazza così brava che aveva conosciuto gli avesse potuto fare un torto così grande dopo Dio non permette questo escamotage e in sogno gli rivela cosa è successo a Maria e quindi resta Giuseppe nella famiglia Dio allora cosa succede quando Abramo sente la moglie pare sentire nuovamente il fatto di Eva e Adamo Eva spinge Adamo a peccare nello stesso peccato Sarai aveva dubitato di Dio non ci ha creduto più il figlio ci facciamo da soli lo dice il marito fa questa proposta al marito il marito poteva rispondere no ma Dio mi ha promesso che mi dava lui il figlio perché dobbiamo fare con la schiava avesse detto così eh ma insomma Dio qua sono dieci anni che non ce l'ha promesso ancora non si realizza niente poteva fare un discorso da donna pesante contro l'incredulità contro il no del marito invece il marito senza manco non da fare il battaglio ha ceduto subito ha ceduto subito quindi ha accettato questa cosa e eh beh tra la vecchia Sara e la giovane Agar chissà fosse anche una certa componente ci poteva stare per cedere più facilmente e e va con con Agar e la mette incinta quando diventa incinta ecco come si vede che le soluzioni umane non risolvono niente comincia a succedere i pasticci in casa in casa nella tenda di Abramo di Sara perché una volta che si vede che lei è incinta e la padrona no Agar si inorgoglisce ecco io ho dato un figlio ad Abramo non la mia padrona si vanta si sente uno scalino superiore a Sara lei si sente la benedetta da Dio mentre Sara non lo era e comincia a non fare più la schiava ma a ribellarsi a fare lei la padrona perché lei aveva il figlio e Sara non ce l'aveva Sara non accetta questa cosa e vuole che il marito intervenga tu non puoi permettere che Agar mi tratti così è la mia schiava e schiava deve rimanere questa altrettosità tu la devi ridimensionare se no le sei colpevole tu se non intervieni quando siamo bravi a gettare le colpe sugli altri allora Abramo si lava le mani dice ecco la tua schiava in mano tua trattala come ti piace io non ci metto bocca e comincia un maltrattamento così brutto che per poter sopravvivere si allontana Agar dalla tenda di Abramo e va nel deserto e qui la situazione diventa difficile perché probabilmente si è morta di fame e di sete prima di sete e poi di fame allora che ha fatto di male Agar Agar si è trovata a vivere una storia con un uomo che non era il suo marito usata per dare discendenza ad Abramo e lei stava patendo un rischio mortale per le pazzie fatte da Sarai questo a noi cosa ci dice quando usciamo dalla fede e cominciamo a ragionare cosa è questa nostra per sistemare le situazioni nel modo che a noi sembra il migliore ci mettiamo in una serie di guai a catena e facciamo partire le conseguenze a qualcuno di quello che stiamo facendo facciamo soffrire la gente la situazione è così brutta ed è così irrisordibile che Dio deve mandare un suo angelo per bloccare questa cosa quest'angelo dice ad Agar di tornare a casa sua dalla padrona e di essere sottomessa di continuare a fare la schiava ma così era meno peggio che morire di sedia di far morire il bambino ma e poi quest'angelo dice così che il figlio che doveva nascere da Abramo è il figlio della promessa non di Agar la promessa è che lui aveva un bambino dalla moglie anche se la cosa era quella più difficile umanamente da credere quello era quello che Abramo e Sara dovevano imparare a credere per poter avere questa grazia loro dopo dieci anni di cammino avevano maturato la fede nella promessa di Dio sì o no no avevano cominciato ad andare di Dio un po' sì un po' no un po' di fede un po' di ma quando questa cosa va avanti nel tempo e non si realizza la loro fede di tutte e due cade pensiamo noi nel cammino di fede delle cose che magari fin dall'inizio abbiamo sperato che si realizzassero e dopo dieci anni ancora stando lì non si sono realizzate per niente ma come Dio me l'ha promessa ma quando me lo fa questo quando me lo dà se col passato del tempo di questo mondo la nostra fede cade siamo tornati peggio che del punto di partenza perché almeno quando partì Abramo da Urde Caldei abbiamo manifestato la fede in Dio che era possibile che quello che dice Dio si realizzasse facendo il figlio con Agar gli ha detto quello che ha implicitamente detto a Dio quello che tu mi hai promesso non si realizza ci penso io a sistemare le cose a darmi un discendente ad avere un figlio con le forze mie quando noi facciamo questo crollo di fede si scatenano le potenti del male perché se fin quando siamo stati credenti la nostra fede aveva impedito al maligno di agire nella nostra vita quando la nostra fede crolla è come quando crolla una diga tutta l'acqua che questa diga teneva tutta valle e quello che ci sta ci sta c'è un paese tutto sotto sotto l'acqua c'è una foresta con gli animali tutti affogati e gli alberi divelti perché la furia dell'acqua chi la trattiene la furia dello spirito del male chi la trattiene ecco che cadere nella fede è molto doloroso provoca delle cose brutte a chi è caduto e a chi gli sta intorno Abramo in questa occasione ha fallito ma Abramo deve imparare ad avere fede quindi lui deve capire l'errore che ha fatto ma guarda Dio non mi aveva promesso il figlio della schiava non mi aveva promesso da mia moglie perché io ho dubitato che mia moglie possa avere un figlio mi sono fatto sopraffarre dalla ragione tua moglie è vecchia quando era giovane non poteva avere figli adesso che è vecchia figure se ce li può avere e non ho più creduto che la potenza di Dio fosse più forte del male e dei limiti della natura umana quando la nostra fede si blocca di fronte a queste cose non può più avvenire nessun miracolo perché la strada che Dio doveva percorrere per arrivare a noi è franata in questo punto non si può più passare vi ricordate e comincieremo a vedere le domeniche di questi tempi quando Giovanni di Battista dice alla gente preparate la via del Signore i colli siano abbassati le valli siano colmate fate una strada dritta al Signore che viene ma se uno non abbassa il colle e se uno non riempie la valle per fare questa strada dritta come fa Gesù Cristo a fare è impossibile non può venire a noi Dio per venire a noi ha bisogno di una sola strada quella della fede che noi crediamo che lui non è bugiardo che promette e mantiene questa è la chiave per tutto facciamo esempio di un miracolo il centurione romano chiede a Gesù Cristo di guardare il suo servo stava in casa paralizzato soffriva terribilmente quel centurione era romano non aveva fatto il catechismo che facevano i bambini ebrei non conosceva la storia di Mosè la storia della salvezza non pregava con i salmi non sapeva delle antiche profezie riguardo al Messia il servo di Yahweh è tutta un'altra religione è tutta un altro luogo di vita però aveva sentito dire di questo potente uomo di Dio questo tale Gesù di Nazareth diceva ti prego guarisci il mio servo e Gesù diceva va bene io vengo adesso e guarirò il tuo servo a casa tua dice no ferma non c'è bisogno di questo io non sono degno che tu entri sotto il mio detto tu sei un uomo di Dio io sono un uomo d'armi io ho sangue sulla coscienza delle persone ammazzate non sono degno che tu entri a casa mia dice però so questa cosa parto dal mio esempio io sono un soldato sono capo di cento soldati centurione però ho i superiori che quando mi comandano carità l'esercito l'obbedienza assoluta fino alla morte loro mi comandano io obbedisco però sono centurione sono graduato ciò cento soldati sotto di me se io dico un soldato tu vai a prendere l'acqua al pozzo quello corre se non ci va povero lui allora tu sei un uomo di Dio sotto di te c'è il Dio lui ti comanda e tu gli obbedisci però dopo tu sotto di te puoi fare un rovescio puoi comandare tu e gli altri devono obbedire allora se tu comandi se tu dici anche una sola parola qui a 150 km di distanza da casa mia il mio servo sarà guarito quest'uomo un cittadino romano senza avere il catechismo la preparazione ebraica dell'antico testamento applica ad Iso Cristo e a Dio la sua realtà di soldato con l'obbedienza fatta attraverso le parole attraverso i comandi e capisce la perfezione quello che sarebbe dovuto avvenire Gesù Cristo sentire questo discorso sbagladisce lo loda pubblicamente e dice che in Israele fino a quel momento che lui aveva girato non aveva trovato nessuno con una fede così grande come quell'uomo che ha fatto di speciale questo niente ha semplicemente applicato a Gesù Cristo quello che viveva lui come soldato io obbedisco e comando tu obbedisci a Dio e comandi le malattie sono guarite allora la via della fede è una via semplice è forte perché per essere credenti dobbiamo andare sopra il nostro cervello sopra le leggi della natura sopra le forze del male però la fede è semplice lineare ho detto Dio punto e basta si realizza ha detto Dio allora Abramo aveva questa parola di Dio in sé tu sarai padre anzi la tua discendenza sarà così numerosa che sarà più numerosa delle stelle del cielo e dei granelli che compongono la spiaggia del mare per quanti discendenti avrai e il primo sarà questo il figlio di tua moglie lui aveva questa parola in sé stesso poteva disattenderla lui e ognuno di noi quando ha una parola di Dio per sé stesso ci può girare intorno ci può guardare lì di sopra lì di sotto ma se non si prende sul sedio e non si vive questa parola diventa inefficace non si realizza perché manca la nostra parte l'attracco della parola di Dio alla nostra storia umana attraverso la quale quale attracco la grazia che Dio ha pronta per noi può venire a noi la fede fa la persona degna di ricevere quella grazia quel miracolo la fede lo fa la fede quindi non significa per esempio uno ha fatto tanti peccati non può fare un atto di fede perché ha fatto i peccati non è vero dire il signore salvami proprio un peccatore non deve dire più che altro che si sia da persona quindi anche stato di peccato si può credere in Dio si deve credere in Dio e attraverso quell'atto di fede ricevere la sua salvezza allora Abramo e Sara partiti bene hanno fatto questo procedimento per il tanto tempo che era passato e perché la tentazione di una soluzione umana era sempre più forte più immediata più appetitosa noi facciamo così noi non facciamo quello che Dio promette a noi noi cerchiamo sempre la nostra soluzione di metterci bene a posto le cose come noi crediamo che sia meglio e così siamo sicuri perché siamo sicuri di noi stessi ma di Dio non siamo sicuri per cui sì qualcosa facciamo per noi è sempre un rischio perché la sua volontà ci potrebbe sorprendere un momento all'altro e farci soffrire ma Dio non fa le cose a danno al dispetto delle persone ne fa per amore quello che fa il Signore è sempre il meglio per noi per ciascuno di noi allora Abramo ad imparare questo a camminare basato esclusivamente sulla luce che gli proveniva a lui dalla parola di Dio quello del suo compito dopo dieci anni di cammino ancora non c'era arrivato a questo punto passano altri anni ci arriverà allora sarà il vero Abramo il padre della fede quello che siccome ha creduto ha sperimentato l'esodimento del suo atto di fede ha sperimentato il dono di Dio Agar invece è la persona che patisce la mancanta di fede di Sara e di Abramo lei che c'entrava in questa storia non c'entrava niente c'entra per via del peccato della mancanta di fede Agar e soprattutto il suo figlio Ismaele diventano una prefigurazione delle persone giuste che patiscono per la mancanza delle persone più altolocate dal punto di vista religioso ma di fatto che sbagliano e fanno soffrire il prossimo Agar deve pagare un prezzo di cui lei non ha colpa l'unica colpa è di aver fatto l'altezzosa di fronte alla moglie di Abramo che non aveva figli ma non altre colpe lei subisce la colpa di Abramo di mancanta di fede e della mancanta di fede di Sara e c'è questo bambino il bambino sta rischiando di morire di sete di fame nel deserto Dio glielo impedisce attraverso questo angelo e li salva lui che cosa c'entrava a questa storia proprio lui è l'ultimo che avrebbe dovuto pagare un prezzo per gli errori degli altri che non c'entrava proprio di niente eppure stava per morire di sete anche lui allora Dio quando manda il suo angelo fa sì che quest'angelo benedica Ismaele lo farà diventare il signore del deserto è ben detto in questo modo anche io abbiamo avuto una discendenza dei figli numerosi un futuro di guerre purtroppo però è così allora da piccolo giusto ingiustamente perseguitato Dio lo benedice lo promuove lo fa diventare una prefigurazione di Gesù Cristo contro il quale la mancante di fede dei capi del popolo di Israele diventa peccato che si scaglie addosso a lui e lo fa soffrire fino alla morte di croce bene allora questo qualcosa riguardo alla storia di Agar e di Ismaele ed è detto questo un punto importante è questo che non possiamo e dobbiamo imparare a non svicolare nella fede la fede è quello che il Signore ci dà da vivere punto e basta la sua parola è quella punto e basta diciamo vivere quella cosa lì se scendiamo in basso se cerchiamo soluzioni umane a una promessa di Dio non siamo più degni di ricevere la promessa e automaticamente escludiamo da noi stessi da Dio perché Dio non ci parla più non si rivela più a noi perché cosa gli interessa non lo capiamo non vogliamo capirlo guardiamo altre cose che non nel bene delle persone e allora Dio non ci benedice più si può fare tanti esempi di storie di situazioni di persone vedete dopo dieci anni è così passa altro tempo arriverà i momenti in cui Abramo è diventato una roccia nella fede col cammino soffrendo diventato capace di credere a quello che Dio gli ha promesso e fino in fondo senza nessuno sconto senza nessuna scocciatoia ecco questo è il mio taglio di questa sera quindi facciamo un atto di coscienza vediamo laddove noi stiamo sbagliando laddove noi stiamo cercando soluzioni umane non giuste per vivere una dimensione di fede di pienezza quello che Dio ci ha permesso questo si realizza e chi lo ha creduto lo ha sperimentato in piedi preghiamo signore Dio onnipotente guarda il tuo popolo bisognoso di fede di una fede stabile di una roccia ti preghiamo a Dio onnipotente affinché non cerchiamo mai più soluzioni umane ai problemi divini che rendiamo integri nella tua promessa e sappiamo attendere i tempi spirituali nei quali questa promessa deve vedere il suo completamento la sua realizzazione perciò signore benedici interiormente guarisci la nostra fede manaticcia bislacca fragile e facci diventare adulti di una fede come lo diventò Abramo nel suo cammino dietro di te per questo ci bendica Dio onnipotente padre e figlio e spirito santo grazie